Buongiorno, sono Stefano Zanirato, Presidente del Circolo Scacchistico Rodigino, Associazione Sportiva Direttantistica e ho l'onore di presentare quest'anno la quarta edizione del torneo Trofeo Natale di Scacchia Rovigo organizzato con la Banca del Veneto Centrale che ci ha gentilmente offerto i locali per poter effettuare questa grande manifestazione. È arrivata al quarto anno e siamo orgogliosi di poter essere un'organizzazione che porta questa disciplina culturale a Rovigo e soprattutto perché in questi anni abbiamo avuto anche grandi nomi e anche quest'anno che partecipa dal torneo c'è qui un maestro fide, questa manifestazione che si svolge in sette turni, torneo valido per il torneo Rapid Elo e quindi per un punteggio particolare sono partite brevi che si chiudono in giornata. In particolare in questa manifestazione dobbiamo anche ricordare due figure importanti del circolo che purtroppo sono mancate prematuramente quest'anno, Giovannino Landi, consigliere del circolo e Carlo Pento che ha organizzato questa manifestazione nelle tre edizioni precedenti, quindi era doveroso, un contributo anche per la loro memoria. Questa manifestazione si concluderà questa sera alle ore 17 con la premiazione e quindi in quell'occasione vedremo anche tanti giovani che partecipano al torneo che verranno premiati. Vi ringrazio.